Lasciatosi alle spalle e cogli al metauro conterranea e prosegue il suo viaggio e approda sabato 2 luglio a Monbaroccio. L'evento voluto dai comuni della Reale dell'Unica Dopo delle Marche e dalle Proloco con il patrocinio della Regione prevede musica, spettacoli e denogastronomia uniti in una serata dalle grandi atmosfere. Il 2 luglio vi aspettiamo nell'immensità e nella bellezza di questo giardino di Palazzo del Monte per ritrovarsi e ritrovarci tutti insieme in un contesto particolare, in un contesto dove la scienza e la cultura del Palazzo di Guido Baldo del Monte, nella figura di Guido Baldo del Monte, si guarda verso il Beato Sante, laddove la fede e la cultura hanno contraddistinto il nostro territorio, quindi da una parte la scienza e dall'altra la religione. La fede e la scienza, due situazioni che nella storia hanno spesso avuto delle conflittualità e che grazie a Gabriele Guccioni metteremo tutto e tutti intorno allo stesso tavolo per degustare le peculiarità del nostro territorio, le qualità di quello che il nostro territorio ha da offrire a voi che vorrete venirci a trovare. Tutto accompagnato da un contesto musicale unico nel suo genere. A fronte del percorso scienza e religione abbiamo voluto mettere insieme gli archi e sassofono, gli ottoni, due elementi musicali molto contraddistintivi, molto lontani fra di loro, ma che appunto a fronte di questa sinergia fra scienza e religione si ritrovano a suonare insieme. Nella particolarità del contesto devo ringraziare il maestro Mangani che ha aiutato a scrivere i testi di quello che ascolterete quella sera, quindi grazie maestro e un grazie particolare anche a Stefano Mancini, sassofonista di alto grido, trasversale nella sua politica musicale e al contempo i cinque musicisti internazionali che suoneranno in questo contesto meraviglioso di Palazzo del Monte. Il costo della serata è di 50 euro e comprende la cena, l'ingresso al concerto spettacolo, il viaggio di Conterranea e poi si concluderà il 9 luglio a Cartoceto nello splendido Belvedere di Piazza Marconi.